la mia borsa lo lanci la mia borsa accorderai che buona parte del lavoro è quello di cercare la presa la mia borsa 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 mi ricordavo che era provata un po più facile e più difficile ma sopra il 6ac nel grado e si si faccia il stesso sottotituto è difficile Sotto i tuoi piccoli sicuramente e io che oltre queste difficili aveva anche la città di super Ma che consumato? La città di aprizzo Ecco, la città di aprizzo è un limite, lei rispetta la città di spazio Sì, c'è la città di più Ma anche sui piedi è sempre un po' C'è questo fumo, sempre per grazia di Dio Sotto i tuoi piccoli 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 Grazie. 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 Sì, infatti vi prendo una roba insieme, avevo preso dei pezzi, dei pezzi lunghi e poi la roba insieme. Sì, ma avevo preso alcuni nuovi, altri invece ho cambiato, sono le muscolazioni di campo, non erano buoni, avevo cambiato solo le pezzi. Ma questo è il soppumano che ho arrivato. No, non ho ancora preso. Ma non ho ancora preso. E' più bello di questo. Di questo? E' più bello di questo. No, ma guarda, vado a vedere qua. E' proprio qualcuno dell'albia, ripetati questa stelle. E' più bello di questo. E' più bello di questa stella, le spiglie, la spiglie, la palla, l'albia, tra dentro ho la corda, le schiacchette, il nabo. Ma che tu sei intressata. Sì. Un teatro di carri. Devo guardarmi, non lo prendo in un altro lavoro. Grazie. 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 Ehi, mi sentite qui. No, eh. Mi hai preso il mio. Dove hai? Come ti senti? Mi senti? Mi senti? No, ma non ho preso il mio che mi senti. Non è quello vecchio. Che schifo il mio. Eh? Che schifo il mio è vecchio. È l'uno. È l'uno mio. È l'uno, che è il tuo. Perché non tenesti il due. È il foro. È il foro. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Anche non ci sono sottile. Sottile. Sì, queste sono sottile. E' le due. Non sono sottile. Noi si sono assi. E' questa notte. Non so. Infatti! di stare a destra ma non troppo andare dentro nei viti anzi no, ma sta a destra ripasendo per le poste pensiero bravo, bravo nocca bravo Grazie. 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 Ci sono delle micro spazzucchine, non vedo che sia tanto, se no devi stare più a fessura. Spera un attimo. che giro che ha preso che roba Sì, ora... Sì, ora... Sì, ora la passo un po'. No. Grazie. Si vive un gruma. Un gruma. Mamma che ballerina. Vado, salla a fratti, non da te sfondare. Salla a fratti col te. Ah! Che... 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 Grazie.